L'ambientazione ormai la conoscete, alle mie spalle le torri, sede della regione Emilia-Romagna a Bologna. Mi trovo qui perché, come ogni anno in questo periodo, è stato presentato da Union Camere e dall'assessorato regionale all'agricoltura il rapporto sul sistema agroalimentare dell'Emilia-Romagna, che quest'anno è arrivato alla ventunesima edizione, quasi come a Greste. Si tratta ancora una volta di una fotografia del settore che permette di analizzare e trarre il bilancio del 2013, un anno molto complesso a livello mondiale e difficile per l'economia nazionale, regionale e anche provinciale. Di questo parleremo nel focus di oggi di Agreste, mentre nella parte tecnica non mancheranno i modelli previsionali curati da Cleliatosi e torneranno i consigli per la difesa di pomace e drupace del medico delle piante frutticole, che questa settimana è Dario Salvadego. Come sempre, il rapporto è realizzato in collaborazione dall'Istituto di Economia Agroalimentare dell'Università di Piacenza, diretto da Renato Pieri, e dall'Osservatorio Agroindustriale della Regione, coordinato da Roberto Fanfani dell'Università di Bologna. Professore, com'è andata la PLV 2013 della Regione Emilia-Romagna? Qual è il dato che avete presentato oggi? Oggi abbiamo presentato un dato di andamento della produzione lorda vendibile in riduzione del 3%, dovuta in particolare alla riduzione dei prezzi dei cereali e in particolare quelli del grano, che si sono ridotti di oltre il 20% e hanno influito su tutta la produzione regionale. Questo, probabilmente, visto che voi siete di Ferrara, ha inciso molto di più per quanto riguarda la provincia, che oltre alla frutta ha anche una specializzazione più estensiva di produzioni cerealicole. Le altre colture come sono andate? Per esempio le produzioni vegetali e la frutta che lei ha citato prima? Le produzioni vegetali tipo barbabietola e ortaggi non sono andati bene, in particolare la barbabietola per la siccità e per le basse rese e anche i prezzi non elevati, mentre per quanto riguarda gli ortaggi c'è stato il problema del pomodoro, mentre c'è stata una ripresa della frutta rispetto a un anno disastroso come quello del 2012. Noi abbiamo soprattutto pomace, però le pomace non sono andate tanto bene, vero? Le pomace non sono andate tanto bene e continua la riduzione della superficie di queste colture. C'è anche un problema di prezzi, di mercati e di prezzi? Generalmente è il problema rilevante. Quello strutturale riguarda la dimensione molto piccola delle aziende frutticole, mentre quello più generale riguarda la concorrenza e competitività degli altri paesi europei e del bacino mediterraneo su queste produzioni in particolare. Lei ha presentato anche un dato riguardo la redditività delle aziende, anche quella è in calo di circa l'1%. Sì, però il dato positivo è che aumenta il valore della produzione e nello stesso tempo e in particolare aumenta il valore aggiunto, nel senso che si stanno riducendo i costi di produzione. I costi di produzione sono quasi il 50% del valore della produzione, quindi se si risparmia sui costi di produzione significa che la redditività, il valore aggiunto che produce l'azienda aumenta, è aumentato di quasi il 3%. È un dato provvisorio per un numero limitato di aziende, ma comunque è importante. Un'ultima domanda, lei ha parlato anche di un calo dei consumi interni e quindi anche di una possibilità di migliorare la situazione attuale grazie all'internazionalizzazione. Grazie all'internazionalizzazione, perché è la domanda esterna, mentre quella interna si riduce. Quello che abbiamo notato, per quanto riguarda l'agroalimentare, nel 2013 la riduzione e la spesa delle famiglie, che è di, mi pare, di attorno al 3%, nell'alimentare è attorno all'1%, un po' meno dell'1%. Però l'unica strada è comunque andare sui mercati esteri? Non è l'unica strada, è una strada importante anche quella di consolidare il mercato interno con produzioni di qualità che siano sane e contribuiscano alla salute di tutti i cittadini, di tutti i consumatori. Uno delle novità o dell'apprezzamento dell'agroalimentare all'interno della società italiana e europea è proprio quello, il suo contributo che può dare all'alimentazione, al benessere e alla salute di tutti i consumatori. Oggi qui c'è una tavola rotonda su Expo 2015, può essere una strada quella di farsi conoscere attraverso una vetrina così importante? C'è una vetrina così importante in cui l'Italia ha due obiettivi. Uno è quello di farsi conoscere, la regione Emilia-Romagna perché è la principale produttrice di produzioni di qualità DOP e IGP d'Italia e d'Europa, quindi è una vetrina da non perdere, ma dall'altro parte deve contribuire a migliorare la nutrizione nel mondo, quindi la propria esperienza messa al servizio degli altri paesi. Grazie.